Come mai, mi tolgo una curiosità, se avevano tutti questi rapporti, andavano oltre il Grande Mare che in quel periodo era il Mediterraneo, non si è mai trovata una scrittura dei Sardi oppure è da sfatare anche questa credenza? Allora, innanzitutto noi vediamo una serie di reperti che vengono dall'est del Mediterraneo, vengono le ceramiche da Creta, dalla Griscia continentale, vengono gli elementi di collana, pastavitria, vetro dall'Egitto e dall'area ugarittica. Troviamo quindi questi scambi evidenti che ci sono dal punto di vista culturale. Ed è anche chiaro, evidente, che c'è un segnale di questo rapporto. Occorre però tenere presente che nell'età dei nuraghi l'economia sarda è un'economia molto diversificata. Cioè non c'è, non ci sono delle potenze economiche come quelle egiziane, titte e greche che avevano una retroterra molto consistente dal punto di vista storico e certamente avevano anche dei palazzi dove si accumulavano le risorse e così via. In Sardegna la ricchezza era molto più distribuita, anche se poi noi non conosciamo le aree vicino al mare perché il mare ha avuto un'ingressione consistente e quindi tutte le aree portuali vicino al mare eccetera noi le abbiamo perdute, cioè potrebbero essere riacquistate se si intervenisse con una politica che è volta proprio a scoprire questi siti. Occorre dire però che la scrittura appunto nasce in sistemi economici per cui è necessario avere la scrittura. Per esempio la registrazione dei beni che devono essere archiviati, quindi devono essere noti eccetera. Cioè il re, il principe ha bisogno di avere un resoconto della situazione esistente e quindi necessariamente noi troviamo appunto la scrittura nei paesi del Mediterraneo orientale e in quei sistemi paliaziali appunto che richiedono la scrittura. Diciamo i primi elementi di scrittura, la rendicontazione che passa attraverso la presenza di segni sulle ceramiche, sui pesi da bilancia e quindi c'è sicuramente l'utilizzo di un sistema metrico ponderale e però appunto la scrittura inizia in questo periodo intorno al 9-8-6 quando appunto ci sono i giganti. Ormai sono una sessantina di reperti che presentano segni di scrittura e possiamo dire appunto che la scrittura nuragica è nata sicuramente nel 9-8 secolo XX. E' uno dei principi che poteva avere questa scrittura? Sicuramente ci sono degli elementi di scrittura che portano verso un sistema alfabetico. Questo si evince dal fatto che esistono tutta una serie di segni che riportano verso l'ambito soprattutto il boico cicladico. Ci sono i finici sostanzialmente che trasmettono il modello, il sistema di scrittura alfabetico ai greci e quindi c'è tutta una serie di operazioni di transizione nella diffusione della scrittura. Occorre dire che qualche collega ha pensato di individuare nella scrittura dei segni ancora più antichi che portano verso modelli di scrittura cipriota del X secolo X X. Ora, la cosa fondamentale è che in questo periodo, almeno nel 9-8 secolo, vediamo la presenza di un modello di computazione che passa attraverso la registrazione dei pesi, quindi abbiamo certamente un sistema ponderale. D'altro canto vediamo tutta una serie di segni che sono legati all'acquisizione di un sistema di scrittura alfabetico che, ripeto, indica un cambiamento, anche in questo caso, epocale. Poi si dovrà discutere come mai le iscrizioni finora sono così poche e come mai appunto sia così ancora povero, mentre noi vediamo nel Lazio, nell'Etruria, tante iscrizioni, per esempio, però abbiamo anche situazioni contestuali diverse. A Montebrama è stato trovato tutto oppure a suo avviso c'è ancora molto da cercare e ci potrebbero essere delle sorprese? A Montebrama c'è ancora molto da cercare, sia nell'area delle necropoli, perché le statue sono in rapporto con un'area sepolcrale, una grande area sepolcrale di tombe individuali a possetto. Sostanzialmente le statue erano allineate lungo un fronte stradale, c'era un fossato a Montebrama, un fossato stradale, ed erano posizionate sopra le lastre tombali di queste tombe appunto che fronteggiavano la strada. Ora, queste tombe che sono state individuate fronte strada sono almeno 45 quelle che risalivano fino all'indagine di Bedini e di Tronchetti, del 75 e poi del 77 e del 79. In questa ultima campagna seguita dalla soprintendenza, da Raimondo Zucca e da altri colleghi, sono emerse nuove statue, sono emerse nuove tombe. E anche attraverso le prospessioni geomagnetiche, geolettriche, è venuto a scoprirsi che in effetti l'area dei Nelkruppi è molto più ampia, per cui si può supporre potrebbe superare appunto il centinaio. L'altro problema è con che cosa si raccordano quest'area sepolcrale, vale a dire qual è il villaggio di riferimento. È chiaro che in questo villaggio noi dobbiamo aspettarci dei templi, ma i templi di questo periodo li conosciamo, non sono con colonne, sono templi, i templi a Megaron, i templi a Pozzo, i templi legati alla trasformazione, alla ristrutturazione dei nuraghi che accolgono degli altari e quindi si trasformano in saccelli, in tempi, come il caso di Sumulino di Venenoa Franca o del nuraghe Nurdole di Orami. Quindi ci troviamo di fronte a tutta una serie di problemi che vanno ancora risolti, ma soprattutto è evidente che l'area sepolcrale di Monte Prama è un'area monumentale di straordinario interesse. Noi dobbiamo immaginare proprio tutte queste statue fronte strade, un viale cimiteriale monumentale con queste statue che fronteggiano la strada e quindi dominano sui passanti che devono percorrere quella strada. Occorre chiedersi se invece quella strada era solo una strada cimiteriale o era una strada di collegamento già da allora, perché sorge proprio su un raccordo stradale che da Tarros, da San Salvatore, eccetera, porta a Riola e verso le aree interne, e quindi è molto probabile che già questa strada nel IX-VIII secolo appunto avesse un'importanza territoriale straordinaria. C'è da augurarsi che politici e amministratori trovino il giusto interesse e i finanziamenti per consentire di fare un lavoro adeguato e valorizzare quel tesoro che sta da quelle parti. Un'ultima cosa volevamo sapere da lì, professore. Come mai gli scavi sono iniziati nel 75 e per quasi 40 anni non è stato fatto più nulla e le statue, diciamo, non hanno avuto la giusta valorizzazione? I problemi nascono da quello che diceva lei prima. Vale a dire dal fatto che nella sostanza esistono delle motivazioni varie, delle ragioni diverse, che sono legate fondamentalmente alla situazione, allo stato dell'archeologia, mancanze di risorse. E non bisogna guardare solo a un campione. Monte Prama oggi è certamente uno specchio importante della cultura sarda, però noi abbiamo dei tesori messi. A mio avviso la cultura nuragica va vista nel suo insieme. L'architettura dei nuraghi non è inferiore alle statue di Monte Prama. Da un punto di vista monumentale, da un punto di vista dell'impatto visivo, per tante ragioni. Cioè, ognuno di questi elementi, la scultura e l'architettura, compongono un tassello straordinario, che è la storia della cultura sarda, sostanzialmente. E noi dobbiamo vederla in questa dimensione, in fieri della cultura sarda. Basti pensare anche alle straordinarie Domus de Janas, con le pitture. Noi abbiamo i menieri. Abbiamo un tesoro immenso che non riusciamo a valorizzare. Mancano le risorse, mancano i finanziamenti. Mancano le risorse, mancano i finanziamenti, manca l'attenzione dovuta, perché è un patrimonio che porta anche benessere, che porta anche occupazione. e viene trascurata quando si curano invece altre risorse che sono effimere, che portano qualcosa subito e invece poi muoiono subito dopo. Ho capito. Lei è di quelli che pensano che con la cultura si possa anche mangiare, insomma, a differenza di altri e questo fa piacere. No, no. Vanno insieme le due cose. Vanno insieme perché ovviamente il problema non si vive di solo cultura, bisogna abbinare tante altre. Noi abbiamo in Sardegna tante altre risorse. L'agricoltura era una risorsa straordinaria che noi abbiamo lasciato impoverire. La pastorissia, la stessa cosa. Noi abbiamo un retroterra di risorse importantissime che non riusciamo a valorizzare. Perché siamo stati in qualche modo così succubi di quella che è una politica economica che proviene dall'esterno e noi invece non riusciamo a imporre una nostra economia, una politica economica. La ringrazio. La ringrazio a tanto. La ringrazio a tanto. Grazie a tutti